Ciao, sono Luigi Locascio e vi descrivo l'opera di Margherita Moscardini, Inventory, The Fountains of Zatari, Inventario, Le Fontane di Zatari. L'opera, esposta al maxi per la mostra Real Italy, è composta da 61 disegni di proprietà della collezione Maramotti e da una grande scultura della collezione del Madre, museo d'arte contemporanea donna regina di Napoli. Entriamo in Galleria 3 e saliamo la rampa che ci conduce all'ultima terrazza di questo spazio espositivo. Davanti a noi si alza un muro che ci impedisce di proseguire oltre. È un grande quadrato color ocra di 3 metri per 3 metri e 70. Ne tocchiamo con le mani la superficie ruvida, sabbiosa e irregolare. A tratti fitte pieghe si moltiplicano e addensano sotto le nostre dita come una stoffa bagnata e arricciata. Altrove la superficie si distende, lasciando correre il tocco più liberamente mentre le dita sobbalzano su improvvise dune. In alto a destra, dove le nostre mani non riescono ad arrivare, si affaccia un bocchettone metallico. Una volta al giorno all'improvviso spara acqua sui visitatori. Giriamo intorno alla grande scultura, un lembo di deserto verticale, e la scopriamo sottile appena 7 centimetri. Ne esploriamo il verso. La superficie ha le caratteristiche già incontrate, ma in alto a sinistra le nostre mani riescono a sfiorare un elemento nuovo, parte di una circonferenza a rilievo. Stiamo toccando una vasca circolare con un diametro di un metro profonda circa 10 centimetri. Il suo centro cavo coincide con il bocchettone sul lato opposto della scultura. Nel foro rotondo si innesta la manichetta dell'idrante antincendio, che snodandosi dalla parete della galleria fino alla vasca, alimenta il getto d'acqua. Abbiamo di fronte a noi una fontana al centro di un cortile quadrato. Non la riconosciamo subito, perché è stata ruotata di 90 gradi rispetto al pavimento e messa in bilico su uno dei lati del cortile. Inoltre l'acqua non zampilla nella vasca, ma spara un getto minaccioso nel verso opposto, attraverso la base del cortile ribaltato. La scultura è il modello, a grandezza naturale, in resina, terra e sabbia, di una delle 61 fontane che l'artista ha mappato, documentato e ridisegnato nei cortili del campo profughi di Zatari, in Giordania, al confine con la Siria. Nato nel 2012 per accogliere i rifugiati siriani in fuga dalla guerra, è il secondo campo profughi più grande del mondo. La sabbia che hai toccato viene da lì. Margherita Moscardini, nata a Livorno nel 1981, per oltre due anni compie ricerche sul campo di Zatari. Durante lunghi soggiorni incontra i residenti e ne ascolta le storie. Scopre che quelle fontane sono state costruite con materiali di recupero in cortili di terra battuta tra i container, come un gesto estremo e disperato di civiltà e resistenza. Rievocando la casa tradizionale araba a pianta centrale, organizzata intorno a un cortile con fontana, i profughi affermano il loro diritto all'identità, a essere riconosciuti e trattati come persone. Ogni fontana è diversa, decorate e impreziosita dalle famiglie con dispendio di energie e risorse economiche. In quelle fontane costruite contro i divieti del campo, che per legge deve rimanere effimero, città negata, destinata a non durare, l'architettura diventa un manifesto politico. I campi profughi durano in media 17 anni. I loro residenti nel mondo sono circa 65 milioni. Nuove vite nascono nei campi e altre vi terminano, ma ancora oggi non esiste una legislazione internazionale che permetta a queste realtà di trasformarsi in insediamenti urbani, con opportunità concrete di migliorare la vita di chi le abita. Zatari con i suoi 76 mila abitanti, pur essendo un raro esempio positivo con le sue infrastrutture all'avanguardia e una vivace economia, non fa eccezione. Le fontane sono il simbolo della ribellione pacifica degli ultimi, alla precarietà come destino. Mappate e documentate con l'aiuto dei residenti, le 61 fontane sono state ridisegnate da moscardini con colori, tecniche e materiali diversi per accentuarne l'individualità. In mostra trovi i disegni in una lunga rastrelliera di metallo attaccata alla parete, accanto alla scultura. L'allestimento ricorda uno showroom. I disegni delle fontane, infatti, rappresentano progetti di opere in vendita. Le amministrazioni pubbliche e le istituzioni culturali del mondo sono invitate ad acquistare una fontana per destinarla a uno spazio pubblico, come è accaduto a Reggio Emilia, grazie alla fondazione Maramotti. Lì la fontana numero 32, con il suo cortile circostante, ha trovato un assetto definitivo. Realizzata in marmo a grandezza naturale, non è più in bilico su un lato, ma è stata del tutto capovolta e spruzza il suo oggetto d'acqua verso il cielo. Poggiata sulla vasca come fosse un piccolo piedistallo, comunica una sensazione di precarietà, sembra una zattera alla deriva. Moscardini sta lavorando al riconoscimento legale delle fontane come spazi extraterritoriali, isole sospese all'interno degli stati nazionali, rappresentazioni estetiche dell'apolidia e monumenti a chi subisce e vive questa condizione. Il denaro raccolto dalla vendita dei progetti non va all'artista, ma ai profughi che hanno costruito le fontane per contribuire all'economia del campo. L'arte può scegliere di rappresentare il mondo, ma anche di cambiarlo.